Uno scatto dall'osservatorio di Montevergine, dalle vostre webcam, il cielo è nuvoloso, quindi questo fine settimana come sarà il meteo? Sì, dunque, il fine settimana è iniziato effettivamente nel segno della variabilità, il cielo attualmente si presenta nuvoloso su gran parte dell'Irpinia. Nel corso del pomeriggio non escludiamo locali e brevi fenomeni di pioggia, si tratterà di precipitazioni di intensità debole o al più moderata che tenderanno rapidamente ad esaurirsi. Nel corso della serata sono infatti previste ampie schiarite. Per oggi sono attesi anche eventi settentrionali di moderata intensità e le temperature massime saranno quasi ovunque al di sotto dei 30 gradi centigradi. Per quanto concerne la giornata di domani, invece, prevarrà il sole sulle nubi per gran parte della giornata, faranno eccezione solo le ore pomeridiane quando è prevista la formazione di attenzamenti nuvolosi a ridosso dei settori appenimici e sull'Alta Irpinia, ma non sono attesi fenomeni di particolare rilevo, le temperature domani risaliranno di qualche grado. Diciamo quindi che chi sta partendo per le vacanze incontrerà comunque bel tempo e per chi resterà in Irpinia, un po' di caldo lo avremo finalmente. Sì, in questo fine settimana assisteremo ad un progressivo incremento delle temperature che per la verità, per quanto riguarda la regione campagna, sarà più apprezzabile soprattutto sulla fascia costiera e sulle adiacenti penure dove il termometro potrà oltrepassare anche la soglia dei 30 gradi. Attenzione perché per quanto riguarda la giornata odienne, il rischio di piogge pomeridiane sarà significativo anche lungo le coste, domani invece andrà meglio su tutta la regione.